Martedì e giovedì della prossima settimana, a Casemi Nutella fa le valigie, si sposta all'Expo Cook, vi faccio vedere la JPEG che ci racconta che è dal dove. Al 12 di maggio arriva questa nuova edizione al centro fieristico Giotto di Palermo e c'è qui con noi il manager, il Deus Ex Machina, Fabio Sciortino. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Ciao Massimo, grazie intanto per l'invito. No, grazie a te per essere qui con noi. Allora, edizione numero? Numero 6. Numero 6. Che cos'è Expo Cook, Fabio? Expo Cook è una fiera sul mondo della ristorazione, dove tutte le aziende di materie prime, di attrezzature, di arredo, tutto ciò che riguarda la ristorazione, vengono ad esporre i propri prodotti, i propri ritrovati, anche tecnologici, e così che tutti gli operatori del settore, quindi chef, pizzaioli, mettre, barman, vengono a visitare una fiera dove trovano appunto le loro aziende in riferimento, i loro prodotti in riferimento, gli ultimi ritrovati, e quindi voglio dire, è tutto quello che può servire anche a coloro che magari vogliono aprire un'attività, un ristorante, una pizzeria, diciamo che venendo a Expo Cook trovano tutto, dall'azienda di ceramiche, per dire, alle aziende di forni per pizzeria, aziende di attrezzature, di cucina, di materie prime, tutto quello gli può servire, quindi l'anno tutto a portata di mano senza aver bisogno di svilirsi più di tanto. Siamo alla sesta edizione, siamo in una nuova location, perché la fiera è ancora abba vaccinale, quindi abbiamo trovato questa location, si trova a Piazza Leggiotto, una location comunque strepitosa, perché siamo su via Regione Siciliana, c'è un parcheggio enorme, per cui anche questo è molto comodo per i visitatori, per i fruitori, e stiamo lavorando su tre tendostrutture, abbiamo montato tre grosse tendostrutture a 2.000 metri quadrati ciascuna, dove ci saranno qualcosa come un centinaio di aziende che esporranno, poi c'è un'altra tendostruttura che accoglierà il palco con gli oltre 100 cookie show di chef stellati nazionali e internazionali. C'è un programma fittissimo, saranno quattro giorni veramente intensi, ci sarai anche tu e questo è motivo di piacere e di orgoglio, poter avere anche Massimo Nutella e Casa Nutella trasmessa lì in diretta con tutti gli ospiti che troverai, dal presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzullo, a Giorgio Fadda, a tutti i presidenti del bartender internazionale, Heinz Beck, tre stelle Michelin, insomma la prima volta che Espo Cucchi viene un tristellato, Natale Giunta, Valermitana, amico da sempre, tutta la Federazione Italiana Cuochi al gran completo, guarda c'è veramente un calendario fittissimo, pensa che abbiamo il raduno internazionale dei pasticceri di tutte le regioni d'Italia, abbiamo Giuseppe Amato che essendo siciliano ma lavora pure lui alla Pergola di Roma con Heinz Beck e quest'anno ha vinto il premio come il miglior pasticcere al mondo di ristorazione, abbiamo la World Chef, abbiamo Jill Renewson, uno tra i più importanti pasticceri veramente al mondo e viene qui a Palermo per la primavera, volta a fare un seminario sul mondo della pasticceria con la World Chef, abbiamo il concorso dei bartender, per la prima volta abbiamo realizzato il primo campionato del mondo di pizza squadre, un'impresa titanica anche questa, già di suo Espo Cucchi è veramente qualcosa di grande, ma a realizzare all'interno tutti questi eventi tra cui un campionato del mondo di pizza squadre dove abbiamo presenti concorrenti da tutta Italia e dall'Europa, abbiamo più di 30 team iscritti, quindi da tutta Europa, più di 200 partecipanti, è qualcosa che non ti nascondo che ci sta cominciando un attimino a fare tremare le gambe perché sai che dietro tutto ciò c'è un'organizzazione, c'è una preparazione, insomma c'è un lavoro enorme che da un anno chiaramente stiamo dando a tutto questo, però adesso siamo a tre giorni, siamo pronti, però sai è un impegno veramente importante, è un impegno grosso e ti prende molte energie, ti svuota le mille difficoltà probabilmente che ci sono da affrontare in una città come Palermo dove chiaramente già di suo le infrastrutture sono molto carenti, parliamo della fiera, ma neanche quella abbiamo perché è ancora ab vaccinale, quindi ci siamo dovuti inventare una location proprio di sana pianta e ti lascio immaginare cosa vuol dire per una fiera come Spocook dove devi andare a fare impianti di acqua, di luce, insomma veramente qualcosa di mostruoso, però l'importante è che il lunedì quando le persone arriveranno troveranno un ambiente ad accoglierli bellissimo, già gli stand stanno cominciando a nascere, ad avere vita e ti posso garantire che sono veramente belli, come sempre le aziende si presentano nel miglior modo, perché poi alla fine un'azienda che si presenta a una fiera sta mettendo in mostra la propria anima, quindi stanno facendo gli stand molto belli, molto eleganti che dire, c'è tanto, c'è tanto Hai fatto tutto tu, io ho fatto una sola domanda e tu hai dato praticamente tutte le risposte possibili Perché sai, è come un figlio che cresce, quindi io lo seguo chiaramente da un anno di lavoro dietro a Spocook ho una squadra fantastica, ho da mia moglie delle collaboratrici che gestiscono la segreteria in modo impeccabile, perché anche lì abbiamo più di 200 ospiti che vengono da tutto il mondo quindi alberghi, transfert, ti lascio immaginare, voli e quant'altro, quindi dietro c'è anche un lavoro che sono tutti vista poi c'ho dei ragazzi meravigliosi che da mesi, cioè tu pensi che già da più di un mese che siamo nel sito a lavorare dove già sono nate le tendostrutture, pavimentate, mochettate veramente, io guarda quest'anno ho voluto proprio fare la conferenza stampa e presentazione proprio lì diversamente dagli altri anni dove siamo stati appunto al teatro massimo piuttosto che in altre location magari più accoglienti ma quest'anno ho voluto fare la presentazione della conferenza stampa e l'evento proprio lì sul sito per far tastare ai giornalisti, comunque per far notare alle persone cosa succede dalla settimana scorsa, che era ancora un cantiere come lo è ancora oggi a cosa vedranno lunedì quando entreranno in fiera perché sai, poi quando tu arrivi e trovi tutto bello, dici, ma porca miseria, bellissimo ma dietro c'è veramente un lavoro di persone, giorni e notti maestranze, elettricisti, idraulici, fallegnami arredatori, grafici, guarda veramente è qualcosa che muove veramente tante persone che dà un impulso importante anche dal punto di vista economico alla città di Palermo perché è una fiera come Spocook io invito a chiamare un hotel e chiedere di prenotare una camera dal 9 al 12 di maggio ti posso garantire che Palermo e provincia non trovi più una camera quindi anche questo vuol dire tanto, vuol dire per una città dare un impulso economico dare un impulso veramente di turismo perché poi tutte queste persone che stanno venendo da tutta Europa e dal mondo comunque se ne torneranno con un ricordo indalebile della città di Palermo quindi voglio dire, tra la nostra mission c'è anche quella di far conoscere al mondo Palermo e le sue bellezze chiaramente portando qui tutta questa gente però dai, ci stiamo provando speriamo quindi... bene, allora l'appuntamento è fissato a partire dal lunedì prossimo dal 9 al 12 arriva la prossima edizione di ExpoCook edizione numero 6 per chi non lo sapesse il centro fieristico Giotto si trova proprio sull'asse centrale della nostra circonvallazione tanto per intenderci poco dopo direzione Trapani il motel Agip tanto per il te che non esiste più però per noi per gli ermitani arriva sempre il motel Agip avete visto anche i volti di alcuni dei personaggi più rinomati che arrivano dalla alta ristorazione stellata Michelin fino ai personaggi più popolari che per quanto non stellati restano comunque dei grandissimi artisti dei fornelli come Natale Giunta Fadda che è il presidente eccolo qua il Buon Natale che sarà lunedì prossimo e poi ancora Rocco Pozzullo che è uno special guest e poi ancora Tony Lococo che conosciamo anche in Casa Minutella una stella Michelin ai pupi di Bagheria poi arriva anche Giuseppe Amato che è pensato il miglior pasticcere da ristorazione al mondo secondo le Grand Taboulet du Monde il mio francese è molto maccheronico e poi ancora Heinz Beck che conosceremo in Casa Minutella se l'ufficio stampa ce lo porterà con tre stelle Michelin bene Fabio allora in bocca al lupo eh? Crepi ci rimane solo da invitare anche chi magari non ha non ha ristorante non vuole comprare nulla non vuole conoscere le aziende può fare una passeggiata l'ingresso è gratuito l'ingresso è gratuito e non si compra nulla perché le fiere si viene per visitare e per degustare però quello sì per degustare sì perché potranno degustare ovviamente le pizze strepitose come ci si accede? dei gatti strepitosi tranquillamente registrandosi sul nostro sito www.espocook.org e basta registrarsi l'ingresso è gratuito quindi eh voi non possiamo dire non possiamo fare altro che aspettarvi dalle 9 al 12 di maggio al centro filistico Giotto e dove veramente sarà sarà un evento strepitoso diciamo già da mesi ma ogni giorno veramente Massimo ci rendiamo conto che sta prendendo forza e abbiamo dei numeri veramente che cominciano a farci paura perché abbiamo il sito ad oggi abbiamo più di 15.000 registrazioni ancora sai ci sono 4-5 giorni sui momenti club per cui voglio dire veramente ci aspettiamo il mondo a Palermo bene noi saremo lì in diretta martedì prossimo giovedì non mi chiedete cosa faremo ma ce lo scopriremo solo vivendo mi piace molto questa idea di arrivare lì e poi comunque no scherzi parcerà una work in progress nel senso che comunque ci divertiremo ad incontrare i personaggi le persone i passanti coloro che fanno degustazioni e tutto il resto lì si potrà veramente incontrare tutto dalla pizzeria alla ristorazione a quello che ruota intorno a tutto questo mondo che vi garantisco ha un indotto incredibile no? dalla mise en place ad arrivare anche no? alla farina piuttosto che alla pasta e a quello che ne consegue allora Expo Cook 9.12 grazie grazie a te Massimo e quindi che dire diamo appuntamento ai tuoi spettatori e ai Casani Nutella martedì a Expo Cook martedì prossimo ci vediamo in Expo Cook grazie a Fabio e allora prima di salutarvi chi mi ha seguito ieri sera e anche martedì ha seguito due puntate del festival poi è successo che io ieri sera ho letto una mia personalissima lettera in cui ho deposto le armi in senso che per quanto riguarda quella di ieri sera è stata l'ultima l'ultimissima edizione e chiudo leggendovi questa lettera che mi è arrivata da parte di una ascoltatrice e da parte di una ragazza che mi ha scritto questo caro Massimo ieri sera hai sentito il bisogno di scrivere due righe per il tuo pubblico e vorrei rispondere alle tue parole non sono del tuo mondo e non posso realmente immaginare tutto il lavoro che c'è dietro per la preparazione di uno spettacolo ieri ti abbiamo visto molto provato e amareggiato è vero non ci sarà mai nessuno a darti aiuto concreto e a spalancarti le porte però questa città ha bisogno anche di manifestazioni come la tua non ricordavo la città così magra da parecchi anni se nemmeno uno come te e se nemmeno uno come te propone spettacoli del genere è veramente la fine della città forse le mie parole non ti faranno cambiare idea o forse sì chissà ma spero che almeno tolgano un po' di quell'amarezza che hai avuto in questi giorni e che possa apprezzare l'affetto del tuo pubblico personalmente ormai vivo da due anni a trapani ma non ho rinunciato all'evento nemmeno per una serata pensavo ti potesse fare piacere saperlo questa ragazza è venuta a due giorni di fine da trapani ti auguro intanto di riprenderti del tutto spero di rivederti sul palco con il tuo scruscio la prossima estate con meno delusione e più più voglia più voglia nuovamente di fare ringrazio questa persona che mi ha scritto e basta Fabio veloce mi sento mi sento io sto sentendo adesso questa tua lettera che hai scritto quindi questa di questa tua amica chiamiamola così ascoltatrice guarda è una cosa che mi fa veramente male sai perché Massimo perché questa città purtroppo ti svuota dentro quando tu fai eventi come il tuo o eventi come il mio veramente è la stessa cosa che sto provando io io forse sono lì per lì per deporre le armi e dire basta perché veramente fare un evento a Palermo è qualcosa di titanico qualcosa veramente che in altre città lo faresti con una tranquillità assoluta qui diventa veramente qualcosa di titanico speriamo che adesso con la nuova non dico amministrazione perché poi non è un problema di destra sinistra ma con i nuovi personaggi che verranno in seguito si potranno creare le situazioni tali da permettere a persone come te o come me o come tanti altri di poter fare il loro lavoro di poter fare gli spettacoli di poter fare fiere perché non può una città metropolitana come Palermo un milione di abitanti non avere né un polo fieristico né un teatro dove poter fare gli spettacoli e le persone che vogliono fare e deve diventare tutto un'impresa titanica cioè questa è una cosa che mi rendo adesso sto ascoltando questa lettera e quindi ma è quello ti giuro che provavo io fino a qualche settimana fa quella di deporre le armi come dire basta non sarà l'ultima volta però significherebbe darla vinta a determinati personaggi siccome noi siamo più forti dovremo continuare per questo ci lasciamo in questa clip che vedo i protagonisti Ernesto Maria Ponte con il featuring di Salvo Piparo che ci hanno fatto molto divertire anche ieri sera con Nuntereg e Chiù noi ci vediamo martedì in diretta dall'Expo Cook fate i bravi Dio vi benedica grazie a Fabio Sciurtino grazie a te grazie a tutti e vabbè sapete sempre sono i soliti noti che cito sempre baci grazie a tutti